Un vero e proprio spettacolo, ma anche un messaggio forte di legalità. È stata una serata ricca di contenuti e non poteva essere altrimenti quella vissuta sui campi da sci di Camigliatello Silano, teatro della fiaccolata della legalità promossa dalla prefettura di Cosenza. Un evento a cui hanno preso parte tutte le forze armate, oltre che un ospite di grande rilievo, ovvero Franco Gabrielli, capo della polizia e direttore generale della pubblica sicurezza. Un messaggio di legalità e di speranza, ma anche la possibilità di promuovere un territorio e favorirne la crescita. Un evento importante per questo territorio, per Camigliatello e la Sila, un evento che è ricco di speranza, attraverso la legalità si può far crescere il nostro territorio e si può far sì che si crei quello sviluppo sostenibile di cui abbiamo bisogno. Speriamo di ripetere il prossimo anno questa manifestazione che ha avuto un enorme successo, tantissime persone presenti qui stasera al freddo ad attendere questo evento. Quindi veramente una grande soddisfazione, un ringraziamento alla prefettura di Cosenza, alle forze armate, alle forze di polizia, a tutti gli organizzatori perché veramente uniti si è riuscita ad avere questo risultato.